Motori spenti, mezzi fermi e parcheggiati l'uno accanto all'altro come una grande squadra pronta a giocarsi il tutto per tutto nella partita più importante, quella dei diritti. Altra manifestazione, questa volta corato, gli autotrasportatori continuano la loro battaglia sul caro del gasolio che non consente più un sereno svolgimento della loro attività. Appuntamento nello spiazzale di via Sant'Elia a raccogliere l'appello dei manifestanti, il sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, fare sintesi e portare il grido d'aiuto in Parlamento. Sensibilizzare i rappresentanti parlamentari per rappresentare nelle sedi opportune e ministeriali anche questo stato di agitazione della categoria che è più che legittimo. Se si blocca l'autotrasporto si blocca il paese. Bisogna trovare adesso la strada giusta per riconoscere al settore i necessari aiuti e supporti e su questo dobbiamo essere chiari e fermi. Gli autotrasportatori hanno ben accolto l'iniziativa del primo cittadino coratino ma ancora non basta, bisogna trovare soluzioni concrete. Nel pomeriggio i loro mezzi hanno viaggiato a passo Duomo sulla SP231 tra Ruvo e Corato. Prima di arrivare in via Sant'Elia il costo del gasolio è troppo alto, dicono, rivedere le accise. Ci sono le accise sul gasolio che possono essere rivalutate. Stiamo pagando le accise sulle alluvioni del 1963, sui terremoti dell'80. Credo che il governo possa in qualche modo rivedere le accise sul gasolio come gli agricoltori. Gli agricoltori hanno avuto uno sconto sul gasolio perché il gasolio è lo strumento senza del quale un camion non può viaggiare. Quindi il gasolio è lo strumento principale e su quello dobbiamo puntare. La di blu che fino a qualche mese fa costava un cubo di mille litri 280 euro, oggi costa 800-850 euro ed è anche introvabile. Ma dobbiamo salvare l'ambiente. Dateci la possibilità. Intanto si attendono novità dall'incontro a Roma tra Teresa Bellanova, vice ministra delle infrastrutture e mobilità sostenibili e le sigle sindacali. Anche qui arriva una promessa dal sindaco De Benedittis. Sicuramente contatteremo anche la ministra con cui peraltro abbiamo anche un rapporto, diciamo, un filo diretto anche politicamente per cui faremo la nostra parte. I rappresentanti di categoria devono scendere in campo e farsi sentire, darci voce. Noi siamo fermi e resteremo fermi. Si deve sapere che ci sono famiglie che resteranno a fine mese. Noi avremo da pagare stipendi, leasing. Stando fermi per noi è un danno, ma continueremo a restare fermi perché comunque, a prescindere, non potremo pagare. Andare avanti così significa fallire. Mettere in moto un camion e affrontare oggi un trasporto in queste condizioni comunque significa a fine mese rimetterci.